Allora, parliamo del milione. Già. Straordinario. Veramente straordinario. Un ottimo lavoro, ragazzi. Gravi. Potete andare adesso. Grazie. Prego, signori, fate come a casa vostra. Non potete immaginare quale piacere sia per me vedervi qui tutti e due insieme. Prego, accomodate. Solo le sue gemelle? La signora Thatcher. Come se non ne bastasse una. Signori, devo confessarvelo. Siete il capolavoro della nostra organizzazione. Trovarne uno è già difficile. Ma due? In così poco tempo. Lasciatemelo dire. E... Com'è? Ah, non ho aggettivi per esprimerlo. Che peccato. Mi sarebbe piaciuto sapere com'è. Anche a me. No. Notchi. Ma due .